Amici di Trevi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà ancora una zona di bassa pressione sul Mediterraneo centrale ma piano piano si va spostando verso sud-est e quindi il tempo migliora sull'Italia a cominciare dalle regioni settentrionali. Vediamo infatti la previsione della nuvolosità sul nostro paese, ancora un po' di nuvole sulle regioni del medio adriatico qualche annuvolamento si farà vedere anche al sud e mentre diciamo al nord e sul Tirreno tornano delle belle aperture. Come precipitazioni ancora sarà possibile qualche piovasco, qualche acquazzone nelle regioni meridionali e sul medio adriatico però come vedete piogge non particolarmente diffuse e intense, anzi si tratta però più davvero di acquazzoni di breve durata. Quindi in definitiva ci attendono inizio di settimana all'insegna del sole al nord e anche sul versante tirrenico. Qualche piovasco ancora sul medio adriatico e un po' di acquazzone interessano soprattutto il sud versante ionico però come vi dicevo piogge non particolarmente intense e poi martedì migliora anche al sud. Con questo è tutto per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.